Quali sfide pensi che le organizzazioni possono incontrare nell'implementare l'inclusive management e come si possono superare queste sfide? L'inclusive management è sicuramente più complesso, nel senso che la sfida più grande è proprio la gestione della complessità, che è la caratteristica del mettere insieme voci diverse, la pluralità dei punti di vista. Le opportunità sono sicuramente legate alla capacità di avere una visione più ampia del mondo, nel senso che avere un approccio inclusivo significa saper leggere il mondo, la contemporaneità, e saper fare un lavoro corale di millimetri, guardare il mondo con un metro di misura diversa, millimetro e non il metro. Diversità, inclusione, parità di genere, quali sono le difficoltà maggiori che incontri nelle realtà produttive con cui ti interfacci? Sicuramente la consapevolezza che il tema di genere non è un tema femminile, è un tema di equilibri ed è un tema di alleanze, quindi di sistema che coopera per lo sviluppo di un futuro più equo.